Fa discutere ammortare al progetto di un impianto agrivoltaico nella zona di campagna che da Sant'Albino porta fino al depuratore. Sono previsti due anni di lavori per realizzare oltre 100.000 pannelli fotovoltaici su un'area privata di 1.300.000 m2, campi su cui verrà prodotta energia elettrica, ma al tempo stesso si potrà continuare a coltivare riso. Per intenderci parliamo di una superficie equivalente a 182 campi da calcio. La potenza complessiva prevista è di oltre 72 milioni di kilowatt da immettere nella rete elettrica nazionale, potenzialmente un'opera ancora più impattante per la città di Mortara, dove è previsto anche un grande parco fotovoltaico accanto al polo logistico, un impianto da poco più di 14 megawatt di energia. Chiaro che alla luce di questo precedente la presentazione di un agrivoltaico faccia ancora più scalpore a Mortara per le ricadute che il progetto avrebbe sui territori agricoli, ma anche nei comuni limitrofi. Le condutture sotterranee, passerebbero infatti dai vicini comuni di Cerniago, San Giorgio di Lomellina, Ottobiano, Valeggio, Scaldasole e Pieve Albignola. Il progetto dell'agrivoltaico a Mortara è stato presentato al Ministero dell'Ambiente. Ora ci sarà un mese di tempo per le osservazioni di cittadini e enti locali di controllo. Nel caso in cui verranno rilasciati i permessi, si potrà partire con i lavori. L'impianto dovrebbe avere circa 30 anni di vita. L'Associazione Ambientalista Futuro Sostenibile in Lomellina fa sapere che darà battaglia sul tema e presenterà le secretiche al progetto, esattamente come fatto per l'impianto agrifotovoltaico previsto all'ingresso della zona industriale di Gambolò. Un progetto da poco più di 7.000 pannelli su una superficie di 22.213 metri quadrati, in parte occupata da terreni agricoli. Mercoledì 16 ottobre, nella sede della provincia di Pavia, la prossima conferenza dei servizi, in cui Futuro Sostenibile presenterà altre osservazioni. Si preannuncia quindi ancora dibattito.